buongiorno e benvenuti al mio podcast io sono leonardo durante global surprise 2021 top 50 andiamo alla curiosità di oggi oggi entriamo nella vita di una grande scienziata che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia esploreremo la straordinaria vita e il lavoro di marie curie una delle figure più influenti e iconiche del mondo scientifico ma perché proprio lei beh ascolterete subito e comprenderete il mio entusiasmo marie curie nata maria zlokowska e era nata il 7 novembre 1867 a varsavia in polonia fin da giovane dimostrò una grande passione per la conoscenza scientifica ma l'accesso all'istruzione superiore per le donne era limitato nell'epoca in cui visse nonostante ciò marie superò le sfide si trasferì a parigi per continuare i suoi studi scientifici fu a parigi che marie incontrò pierre un fisico e professore universitario insieme formarono una delle collaborazioni scientifiche più fruttuose e romantiche della storia marie e piercuri condusse ricerche pioneristiche sulla radioattività un campo appena scoperto all'epoca nel corso delle loro ricerche curie scoprirono due nuovi elementi chimici il polonio chiamato così in onore della polonia e il radio queste scoperte rivoluzionarono il campo della fisica e aprirono nuove strade per l'applicazione della radioattività in medicina nel 1903 marie curie divenne la prima donna a vincere un premio nobel insieme a per curie ed antoin henry becquerel per la loro ricerca sulla radioattività questo riconoscimento diede a marie una visibilità senza precedenti e fece emergere la sua importanza nel mondo scientifico tragicamente nel 1906 piercuri murì in un incidente stradale tuttavia marie continuò a portare avanti il loro lavoro e divenne la prima donna a tenere una cattedra presso l'università di parigi nonostante il successo marie curie affrontò una dura lotta contro il pregiudizio di genere che persisteva nell'ambiente scientifico fu costantemente oggetto di critiche e ostracizzata dalla comunità scientifica maschile tuttavia la sua dedizione alla scienza e la sua tenacia nel superare le difficoltà furono ineguagliabili durante la prima guerra mondiale marie mostrò un coraggio straordinario utilizzò la sua esperienza scientifica e creò camion ambulanti attrezzati con attrezzature radiografiche portatili fornendo assistenza medica sul campo di battaglia e rivoluzionando il modo in cui venivano diagnosticate le ferite tuttavia l'esposizione prolungata alle redazioni durante la sua ricerca scientifica ebbe conseguenze tragiche per la salute di marie affrontò problemi salute legati alla redazione e alla fine morì il 4 luglio 1934 il lascito di marie è immenso la sua ricerca sulla redattività ha gettato le basi per lo sviluppo di nuove terapie contro il cancro e la diagnosi medica moderna ha aperto la strada generazione di donne scienziate e ha dimostrato che la passione e la determinazione possono superare qualsiasi ostacolo questo è oggi ma spero che siate rimasti affascinati dalla vita e dalle incredibili realizzazioni di Marie Curie spero sia stato anche da sprone per le future scienziate purtroppo ancora oggi alcuni stereotipi però sono duri a morire grazie a te